L'applicazione dello smalto semipermanente prevede l'utilizzo di uno smalto che viene fissato con la lampada a led. Le mani risultano essere in ordine dalle 2 alle 3 settimane e l'unghia risulta essere più lucida, più protetta e più resistente. Potete scegliere tra una vasta gamma di colori e l'applicazione dura circa 40 minuti.